Esaminati da una vita che inizia con un'insolita perizia Per vedere se sei uomo o donna sano Fisicamente idoneo, praticamente umano Medio e superiori lunghi anni all'università Per studiare il tuo quoziente intellettivo Per stipulare una sorta di classifica Che renda il più possibile al settore produttivo Che posizione hai? Qual è il tuo numero? Sei in discesa o sei in salita? La graduatoria non è altro che Una sparatoria alle tue spalle Medio e superiori lunghi anni all'università Per studiare il tuo quoziente intellettivo E stipulare una sorta di classifica Che renda il più possibile al settore produttivo Che posizione hai? Qual è il tuo numero? Sei in discesa o sei in salita? La graduatoria non è altro che Una sparatoria tu lo sai Non puoi dichiarare di aver vinto la partita Rimandato a vita io sarò Perderai il tuo tempo per cercare un risultato Sempre rimandato io sarò Che posizione hai? Qual è il tuo numero? Sei in discesa o sei in salita? La graduatoria è una sparatoria Non puoi dichiarare di aver vinto la partita Rimandato a vita io sarò Perderai il tuo tempo per cercare un risultato Sempre rimandato io sarò